Questo Parlamento è legittimo, l'ha detto la Corte Costituzionale, quindi l'unico modo per poter discutere di leggi serie è farle attraverso un Parlamento legittimo. Per questo noi diciamo che vogliamo tornare a votare con l'unica legge legittima che è il Mattarellum e poi sarà il prossimo Parlamento a parlare di legge elettorale. Tutto quello che sentiamo in televisione sono solo propaganda perché le proposte si discutono in aula e non per telefono nelle segrete stanze.